Il mercatino dei ragazzi a Tregozzano, frazione del comune di Arezzo, è un'avventata di normalità in questa domenica di settembre. E così il Comitato Autonomo lotta contro i tumori di Arezzo sta tornando nelle piazze per la raccolta fondi tanto cara agli aretini. In questa settimana torna anche la versione indoor del mercatino dopo lo stop nel 2020. Con il rispetto delle norme anti-covid, da mercoledì 15 settembre a sabato 18 torna Calcet in scena. Si parte mercoledì con la serata Aretinità, organizzata dal Museo Amaranto. Il mercatino in esterno tornerà invece domenica 19 settembre nella sua storica edizione di Via Fiorentina. Mercoledì ci sarà la serata del Museo Amaranto, giovedì universo infermieristico e venerdì danza e canto. In particolare voglio mettere l'attenzione sulla serata di giovedì dove ci sarà la proiezione di un filmato che abbiamo intitolato insieme a Dada e infermieri e Calcet universo infermieristico. Poi a seguire un concerto della Filarmonica Santa Cecilia di Laterina e sarà una serata interamente dedicata alla salute con la presenza di dirigenti usle, di molti infermieri. Questo è anche un tributo all'impegno degli infermieri nei vari setting ospedalieri. È obbligatorio il Green Pass perché chiaramente dobbiamo seguire quelle che sono le norme in questo momento. e aspettiamo i cittadini aretini e non solo il modo da passare una serata bella e conoscere quello che è appunto l'universo infermieristico.